Oggi farò uno scherzo al mio cane, mi nasconderò all'interno di questo sacchetto della spazzatura che si abbina anche al mio outfit per vedere quale sarà la sua reazione, riuscirò a trovarmi? Ah, che bella sgrullatina, finalmente sono a casa! Ciao! Ehi, ma chi ha salutato il mio mano? Poi non c'è la mia padroncina! Oh, forse sì! Ah, è nell'altra stanza! No, non era neanche lì! Dove sei? Ma aspetta un attimo, ma quello laggiù che cos'è? Ma c'era anche prima! Che cos'è, Yuko? Yuko, cos'è? Che strano! Non ho mai visto un sacchetto della spazzatura muoversi così! Oh, mano, aiutami ad aprirlo! Ah, ho capito! Devo fare tutto io qua! Ma come si fa? Che caccia! Cos'è? 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 Meglio fuggire! Si sta muovendo un po' troppo! Ho paura! Ma c'è la mia padroncina! Ecco dov'eri! Ehi, abbracciami! Non mi avete visto perché sto vestita come... Mi sono mancate, amore! Troppissimo!